buonasera a tutti sono luigi onarac se preferite con la collezione di libri tra cui no questo qua è mio questo qua è mio questo qua alla trilogia di lovecraft qua c'è il trono di spade molto sopravvalutato si lo sto indicando non vedi qua bene questo è il piede di sara no forse ancora io qua ci sono i giochi della play di cui dovrei portare una serie che sono tutti messi da certa parte e poi questo qua sono tutti libri di sara invece questi qua che sono warhammer in inglese che però potrei leggere anch'io ma no li sto indicando bene bubi se te che non vedi ho qua la webcam lo so comunque questa qua perché sara sta studiando ma nei prossimi venti trenta minuti non studierà perché le parlerò sopra i suoi pensieri bentonazzi tra un zedoccan battle nel mentre sto provando a registrare un ptc ma una sfiga dietro l'altra ogni volta che provo a registrare il colosseo di opera non funziona è sempre bello sapere di queste botte di fortuna no e arriviamo una versione leggermente modificata per l'evenienza del sepullare sulle nuove lr in uscita nel global ovvero i nostri carissimi veget e goget lr perché una versione un attimino modificata perché inutile dire se pullare o no questi pg è scontato che sono da provare a pullare quanto analizzeremo le due batch con le possibili modifiche che avranno nel global anche se la batch in sé non penso verrà cambiata anche se lo spero di sì per voi affronteremo un attimo quanto spenderci come spenderci e soprattutto se pullare su goget o pullare su veget quindi aspettatevi un video di solita durata fantastica e partiamo con una piccola premessa ricordatevi che oltre a queste due batch usciranno le leggendari summon quindi se pullerete su gogeta ve ne potrete fregate le leggendari summoning qua oddio trunks in meta nel meta mormigliore si gioca ma non è che chissà cosa se pullate su veget e non volete giocare la versione turbo del potara volete quindi giocarevi la versione standard con rosella r da black dovrete pullare partire anche su questo presupposto parlando più in maniera globale senza ancora addentrarmi nelle batch vere proprie vi posso dire che ci vogliono tante stone in media nel japp ce ne volevano almeno mille in media per una coppia di un pg salvosculate nel global grazie a ticket e varie cavolate varie si può ridurre si ridurranno verso le 800 circa il mio consiglio principale concentrarvi su uno dei due ragazzi se siete free to play è inutile mirare entrambi cercate di concentrarvi su uno ora andremo a vedere in quale caso bisogna concentrare su uno in quale sull'altro in modo da regolarci allora partiamo con la batch tra virgolette meno seria ovvero quella di gogetta lr detta meno seria perché ragazzi che nessuno me ne voglia ma gogetta lr non è che sia l'importanza storica più alta del gioco grandissimo pg più stabile di veget come pg singolo data la presenza di più pg nei suoi team che danno chi ma inferiore su tutta la linea anche come pg non è obbligatorio pullarlo per poter giocare un metamore degno gogetta quarto è un pg che di sicuro non arriva ai livelli di gogetta lr ma è buono e presenta però a mio parere una batch tutto sommato abbastanza buona e forse addirittura migliore di quella di veget fatemi conto un'altro perché non ho non mi ricordo se c'è cosa c'è di preciso ok togliamo il tutto sommato di base la batch di gogetta se rimane quella che era nel giap è migliore di quella di veget questo è l'unico vero vantaggio che ha gogetta in quanto ci sono tre pg utili contro i due e mezzo della batch di veget quindi è in tutto sommato se siete davvero agli inizi non volete farvi un po tara questa batch sembrerebbe la migliore andremo a vedere come invece il potara funzioni decisamente meglio anche per chi inizia i vantaggi di pullare su questa batch non quella di veget se siete agli inizi che alcuni pg metamore sono formabili abbiamo un gothings grasso e gothings magro ad esempio che sono due super strike portabili a 15 evolvibili tutto quanto che potrebbero aiutarvi a costruirvi un potara abbastanza serio quindi quello è tutto un valore aggiunto l'idea anche che non servono per forza delle r per uscire a creare un metamore più che buono è tutto un valore aggiunto di per sé consiglio il pull quindi su gogette lr a tutti coloro che o non vogliono per qualche motivo mirare a farsi il potara potara ha diverse unità free to play giocabili al suo interno più che ottime ha una marea e sottolinea una marea di sub possibili oltre a quelli principali basta vedere la versione turbo potara che gira nel jump attualmente che gioca quasi prevalentemente pg non potara gioca 3 settimi di pg che non sono potara ma sono o int o splash mentre metamore di solito tende a giocare o full metamore o massimo l'aggiunta di trunks lr nel caso di doppio gogetta lr abbiamo una batch che vi regala nel caso scugliate quel pull 3 settimi del team che non è malissimo avete infatti tutti e tre i gogetta attualmente usciti lr il super seaman 4 e lint per chi ha la sfortuna di non trovare lint c'è lstr che vi ricordo che l'ability full sta comunque sotto il che è tristissimo all'int l'ability free però il power creeping è vero a volte in questo gioco e poi come altri pg abbiamo le 4 nuove ssr che oggi purtroppo non servono quasi a nulla seppur in futuro soprattutto goku kaio potrebbe dire qualcosa e abbiamo i janemba che purtroppo extreme str è un team che è stato fatto leggermente male e continua a essere fatto leggermente male aspettiamo di vedere qualche aggiunta futura sperando in un'evoluzione l'unico team che ti obbliga ad avere due broli per essere davvero buono quando in realtà tutti gli altri team che giocano broli lo preferiscono ad ability e se non vi hanno giocato ad ability più c'è una barca di danni quindi capite che è un controsenso esistente il team extreme str in questa batch avete come ho detto metà del team le altre parti del team dovranno essere prevalentemente un gotheng sterzo potrete prenderne uno con la ston viola probabilmente nel pilaf trove di un gotheng sterzo oddio si dovrebbe esserci anche un gotheng sterzo fisico possibile da prendere se non erro si 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 perché ho preso goku 120 quindi si c'è cosa di prendere gotheng super saian 3 tech con la stone con altre stone che daranno anche anche lui ragazzi non è un'idea malvagissima prenderlo naturalmente ci vuole ad ability full e comunque non arriva ai danni di un ability 1 2 di gotheng fisico però tanka meglio tanka meglio non che metamore abbia bisogno di tanking siamo sinceri metamore non ne ha assolutamente bisogno tanka che è una meraviglia quasi tutto tanto il gotheng fisico però è un valore aggiunto oltre a lui ci andrebbe il buffer buffer che sarebbe pandel che purtroppo ragazzi è un'unità limited ci andrebbe pandel perché purtroppo il global non ha ancora messo eros nel caso di eros l'unità migliore da mettere in posto di pandel sarebbe gotheng super saian 3 tech in quanto comunque garantisce un atp totale maggiore di quello che da pandel come ultimo pg nel team le scelte sono varie per quelli di voi che ne hanno l'opportunità naturalmente sempre mi mette trunks lr che prende comunque un 180% e fa il suo sporco lavoro e di cui abbiamo la leggenderi a breve dopo l'uscita dovrebbe essere verso fine mese la sua leggenderi nel caso non abbiate trunks lr potete mettere diversi pg che vadano sia dai pg fisici magari potete mettere un buffer quale pan gohan super saian 2 o simili oppure mettere dei metamore secondari metamore secondari come possono essere i vari gotheng prima forma o gotheng super saian che rimangono comunque pg più che viabili di base il metamore come team lo potete vedere nella top team è comunque uno dei migliori team del gioco al punto debole di non avere una varietà paragonabile a quella del potara come pg davvero buone da mettere però più stabile il metamore ha davvero pochi difetti semplicemente esistono team che sono migliori di lui è molto semplice la storia del metamore sono poche le fusioni metamore sono sempre quelle non toccando heroes pesa che ne escano di nuove però è uno di quei team che continuerà ad evolversi man mano quelle fusioni usciranno se magari usciranno gotheng super saian 3 si evolverà ulteriormente il team buttando fuori magari trunks lr un pg simile è un team che vale la pena fare se si ha già potara e si potrebbe venire al potara tecnicamente a oggi no potara fa tutto quello che fa metamore meglio ma richiede più sforzo tra un potara ability free e un metamore ability free ad esempio vi consiglio metamore il metamore non ha bisogno di abiti per funzionare davvero i suoi pg fanno già male così come sono e per un free to play sarebbe addirittura forse l'idea migliore quella di mirare al metamore soprattutto magari per un reroller anche se il reroller in vista futura può mirare al potara per altre motivazioni che vediamo dopo pg free to play buoni gli oggetto sono i due gothens principalmente manchiamo ancora di un lr free to play davvero buona per il metamore in futuro probabilmente arriverà speriamo e poi non saprei che altro dirvi in soldoni consiglio quindi metamore tutti quelli che non vogliono spendere una generazione di stone i pg ormai sono vecchi quelli del metamore sono tutti quasi del meta 120% o del nel global anche gogetta si può definire il meta 120% perché è uscito tra i super saiyan 4 e omega quindi addirittura è uscito prima di gogetta super saiyan e degli altri richiede di trovare nella sua batch pressa poco unicamente una copia di gogetta lr che funziona benissimo non ha strane combo o altro è un classico deck beatdown priscilla fame è un classico deck beatdown che è tank e fa il suo sporco lavoro quindi direi che non ho altro da aggiungere per questa parte però ragazzi siamo chiari che dall'altra parte abbiamo la bestia dall'altra parte abbiamo la batch di vegete goku che diventano veget lr pg su cui ci sarà parecchio da parlare in quanto è vero che una volta che si fondono diventi il miglior pg del gioco ma è anche vero che se non si fondono sono una mezza giofeca fanno meno danno di gogetta hanno più problemi di chi di gogetta e in un team che salvo giocato nella versione turbo non mira minimamente a loro siamo sinceri veget lr soprattutto in questo primo periodo salvo provare che non si può neanche giocare la versione turbo che richiede tarless se avete un team forte lo vedrete pochissimo e lo userete pochissimo più avanti giocandolo a turbo lo vedrete spesso perché è fatto apposta per riuscire a giocare budget e farli fondere senza rinunciare a massimizzare il danno e la stabilità però richiede comunque un po' più di rischio e saper giocare un pochino in maniere diverse la sua batch purtroppo mi dispiace dirlo è peggiore di quella di gogetta a mio avviso presenta come unici pg utili veget lr e veget fisico abbiamo sì veget blu fisico però ragazzi c'è veget blu str veget blu fisico l'ho sempre detto l'ability full fa più danno di veget blu str però questo non vuol dire che uno deve spendere stone per portarsi l'ability full nel senso avete veget blu fisico l'ability full sapete di essere in una battaglia in cui il tanking vi importa relativamente e non avete veget blu tech l'ability 1 giocate lui al posto l'STR però non è che solo perché ha quei 200.000 100.000 danni in più dovete spendervi fior fior di stone per portare l'ability full apposta rinunciate a 100.000 150.000 danni giocate il blu l'ability full l'STR l'R che comunque è un pg che la sua la dice oppure ancora meglio andate diretti col tech che spara cannone atomici gli altri pg della batch sono molto sotto tono abbiamo sempre le 4 ave maria che sperano di andare a tour un giorno abbiamo veget agl che ragazzo ho giocato di recente nel battlefield non ce lo faccio più a guardarlo è stato il miglior pg del gioco per un bel po' di tempo ormai se non riceve l'esa è di un superato ma di un superato che fa quasi piangere guardarlo cioè giocarlo e ricordarsi cos'era mi ha fatto star male come giocatore perché davvero ha perso troppo abbiamo buon altro pg che però ad oggi avendo giocato entrambi di recente nel battlefield è invecchiato meglio sarà per la sua ragione di nucare sarà perché è un linker di tutto rispetto in kit bu ma è invecchiato meglio ma comunque rimane un pg totalmente inutile oggi che non si giochi in nessun team anche vegeta gl però non si giochi in nessun team completo e quindi è un dispiacere ma mentre posso capire vegeta gl perché è uscito vegeta fisico io spero ancora in un nuovo buon per cavolo io adoro buon buon è la mia versione di majin bu preferita oddio sinceramente sarebbe zen bu il mio majin bu preferito però non è canonico è di un fan made non so quanti di voi lo conoscano zen bu lui è il migliore però subito dopo di versione canone che c'è buon e io spero di vedere sto cavolo di buon extreme tech uscire un giorno fatemelo anche l'air basta che ve lo fate e tieni d'occhio Cersei Lannister perché non mi piace che sia così vicino alla porta poi abbiamo kit bu int passato da essere il peggior leader 120% un pg più che utilizzabile ora nel jump ragazzi con la possibile combo di selle freezer gt divento ulteriormente buono vi da un healing davvero buono vi fa fare un po' di danni veramente ingenti non mi chiedete perché sto sorridendo perché succedono cose che è meglio non sapere in questa casa però tutto sommato anche lui non è che in una base lo trovate siete felici extreme int o meglio resurrette di int anche colui ability free vive benissimo mira su altri pg particolarmente più rare abbiamo poi due pg principali veget lr e veget fisico ma c'è la solita problematica i veget hanno bisogno tutti escluso la gl di ability il veget fisico non è da meno deve trovarne almeno due o tre copie veget lr funziona da ability free ma funziona da ability free una volta che si sfonde quindi o in team molto scarsi o in team molto buoni cioè non c'è la via di mezzo un team medio se non si fonde lo finirei per usare fuori turnazione perché davvero vi darà problemi veget lr è successo e continua a succedere finché non si gioca la versione turbo che vi permette di averlo sempre a 18 ki o vi permette di avere facilmente facendo più danni della versione stabile la fusione veget lr mancherà un pochino di un vero e proprio utilizzo al massimo quindi il mio consiglio è a chi consiglio di fare potara in questo caso allora potare è consigliato a chi vuole investire potara a differenza di metamore non è un team che ad ability free funziona ragazzi partiamoci chiaro i pg che si gioca in potà soprattutto se non avete i pg secondari dietro i divani no ti prego vado a spostare che si ammazza io non mi faccio più domande io non mi faccio più domande si è incastrato no non si è incastrato ti prego salva il morituro è vivo ancora scusate ma Priscilla è cretino col cuore col cuore lo dico è cretino ma io me la madonna ma è cretino allora dicevo è un team che per chi vuole investire Veget Blue Tech ha bisogno di ability Veget Blue Fisico ha molto bisogno di ability Kefla per chi non è il team completo e vuole giocare Kefla ha bisogno di ability e anche ad ability fidatevi quando la gioco in super fisico insieme a Kefla e entrambe full ability Kefla funziona meglio perché è fissa di avere danni alti non ha bisogno dell'orb manipulating anche se se lo fa da sola e anche quell'orb manipulating di solito lo utilizzo per altri pg gli altri pg che possono giocarti nel team sono Bardak che comunque non è stato trovato in tanti proprio perché era pre-anniversario la gente tutto free to play avrà preferito tenersi le stonna e ce la potete di dover giocare anche pg int quali gogetta int oppure la coppia rosè e rosè masu se avete rosè str e vi rimarranno stone per pullare nella batch di rosè e zamasu di black lr allora potrebbe dire la vostra magari dato che non avrete ability altissima tutto il free to play che parlo mirate a farvi la versione stabile quella con rosè e zamasu per invece i delfini le balene che potranno farsi le versioni più toste dei team e che sanno giocare potete mirare direttamente usare quella versione inizialmente e poi andare incavolati come una bestia appena esce tarles nella versione turbo per massimizzare il danno potara è di sicuro nella top 3 dei team migliori del gioco e il team che difensivamente parlando nella sua versione stabile il top il che è strano dire che potara sia il miglior team difensivo però guardando la 3 come si muove nella versione stabile almeno quindi quella cosa di zamasu non può morire cioè qualsiasi specie giocate salvo vegeto bluteca all'inizio della battaglia tanka vi ricarica gli hp vi crea un continuo su seguirsi di immortalità nella versione turbo come ogni versione turbo come il super saiyan 3 anche lasciate perdere attualmente la difesa per shottare però è il team difensivo per eccellenza difensivo che comunque vi ricordo che paragonato a tutti i team che gli stanno sotto di categoria quindi a tutti i tagliar 0, 1 eccetera è superiore al loro d'attacco mentre extreme v2 lo repute il team con la stabilità e la sinergia migliore c'è poco da dire tutti per mass special tutti effetti che si attivano e 20.000 versioni possibili e super saiyan 3 il team che se ne fotte della sinergia di tutto fa i 6 milioni a special di go cohability free e shot papale papale questa è bene o male la motivazione della sinergia come viene detto che un team è migliore dell'altro bisogna sempre guardare in quale caratteristica per saiyan 3 fa più danno di potara però ha meno difesa e nella versione LR ha meno sinergia se non è LR invece come sinergia non ha alcun problema se avete molte stone da investire e tutto questa batch può far per voi ma dovete avere già dei pg dietro ragazzi purtroppo questa batch vi regala 2 pg 2 pg e mezzo salvo voler crearvi chissà cosa e quindi la consiglio principalmente chissà che dovrà poi investire ora anche qua quante stone spenderci esattamente come per Gogeta consiglio se siete free to play di sceglierne uno e andare all in non c'è altro da fare per i free to play mirate a uno e andate so che c'è molta gente anche che sta scrivendo io non spendo nulla qua vado su Tarles e ragazzi allora Tarles poi ne parleremo quando avrò tempo di formi di apposito probabilmente ad agosto che anche ci sarà la sua uscita solo perché il mio pg del gioco non è un miglior pg del gioco come poteva essere Vegetta e AGL quindi c'è un mio pg del gioco pullo per averlo perché ho lui all top non funziona così Tarles Tarles è il mio pg del gioco perché vi apre una marea di modi di giocare funziona con qualsiasi cosa e tutto ma se non avete quel qualcosa con cui funziona Tarles fa cagare ed è inutile se lo giocate in maniera sbagliata perdete solo e non riuscite a giocare bene quindi il ragionamento non pullo all'anniversario perché pullo su Tarles è totalmente sbagliato un ragionamento non pullo all'anniversario per pullare alla bacia del Tanabata è sbagliato al 50% uno perché il Tanabata non lo avrete mai nel Global non ha il minimo senso logico di esistere una festa giapponese Global dall'altro al 99% la bacia attuale del Tanabata sarà la bacia di Natale barra Capodanno nel Global solo che ragazzi andare sempre oltre andare avanti andare avanti è inutile perché scommettiamo che nel momento in cui arriva la bacia nel Global di Natale sarà uscita una bacia 100 volte meglio nel Jab e quindi ancora una volta vi sentirete dire ah no aspettiamo aspettiamo le stone le danno all'anniversario le danno ogni mese danno sui 200-300 stone anche nel Global sia Global che no 200-300 forse esagerato 150-200 stone tra giappe Global soprattutto adesso che ci sono Esa arriverà il Battlefield che sono altre stone e tutto quanto ci saranno tante stone non sono chissà quanti in realtà perché comunque i rate sono quelli che sono però tenendoveli da parte provando solo nelle batch buone riuscirete per un po' a farvi un team non saranno i team completi è normale siete free to play è normalissimo non dovete i metri incompleti si vince quasi tutto anche senza avrete poi delle sfide più ardua la ROAD il Battlefield che saranno sfide più pesanti che vedremo insieme tanto sto già facendo uscire da mesi per ogni singolo Battlefield una mia run in cui addirittura come ha notato qualcuno utilizzo leader più scarsi per farla un attimino più attiva perché se iniziasse usare class leader più leader 120% poi rally ai nemici che incontro fai brutta una brutta fine quindi almeno un pochino di pathos me lo voglio creare detto questo di queste i miei pensieri sui consigli del pool era più un discorso se non sei pullare quindi penso che alla fine lo metterò come vero e proprio Doc and Debate noi ci vediamo domani sera se riesco non ve lo prometto con altri video altrimenti è molto più probabile che faccio uscire solo delle run sabato sera dovrei essere ospite da Riccardo per una live e domenica avrete l'anniversario quindi ormai ci sarà anche il Tanabata sabato 800 stone dovrei arrivare facilmente appena esce Goal anche 8.50 quindi 3 multi me le posso fare sul Tanabata non farò naturalmente video pool per 3 multi quindi al massimo faccio le foto le metto su instagram come al solito e poi andiamo avanti vediamo cosa esce mancano delle analisi lo so uscirà l'analisi dei pg free to play dell'evento il c17-18 mi sto finendo di farmare se le freezer per provarle anche se fidatevi io sarei più tentato di fare altre 3 multi su Goku Super Saiyan 4 per trovare una cova di sale e freezer che sul Tanabata farvi capire quanto alla fin fine anche l'abilità di questi due LR mi interessi relativamente e per il resto noi ci vediamo quindi nei prossimi giorni spero di riuscire a registrare quel caso di video di OP10 il prima possibile grazie a aver seguito buona serata e alla prossima e soprattutto che ah si giusto le ultime cose perché comunque se non sono un sepullare la aggiungo sempre alla fine naturalmente ti dico ormai per acquistare le stone per il periodo di scontistica potrebbe essere tardi nel senso potete comunque mandare richieste nel link dei ragazzi di Randomiros in descrizione per l'acquisto delle stone naturalmente siamo a due giorni preanniversario le stone vi arrivano entro la fine dell'anniversario quello si ma non è detto vi arrivino per la chiusura delle multi scontate cioè in quel periodo di solito di 3-4 giorni in cui c'è la multi scontata come abbiamo detto anche in una marea di video fa bisogna farlo prima però nel caso comunque vogliate stone il servizio funziona disponibile nonostante uno certo tizio spagnolo diceva non porta ban era una notizia inesatta vi fido se mi vi ricordo sempre di fidare da qualsiasi notizia che non riporto anch'io perché fidatevi che se ci sono delle notizie importanti la sera anche se sono stanco un dock in debate veloce la do se vedete che io però mi ne fotta altrimenti una notizia vuol dire che di fondamento su quella ce n'è poca oppure chiedetemi in privato anche magari non rispondo sempre a tutto perché lavoro alto ma se vedo che è una cosa importante come può essere che vengo banato una risposta veloce ve la do anche sarà se è fatta male noi ci vediamo e presto anche un video su legend e no non ho trovato tracks ho trovato solo vegeta alla prossima